Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, bentornati al consueto appuntamento del giovedì sera qui sul canale di Motoretto con me, il laivetto. Questa sera una serata un po' spero particolare, spero gradita per tutti voi, cercheremo di animare un po' di più la situazione rispetto al solito perché ho intanto cambiato l'inquadratura, non so se apprezzate o meno, ho una nuova inquadratura un po' più lontana così mi si vede anche la silhouette, ma per la gioia di Stefano continuo ad avere il gomito appoggiato e il profilo di tre quarti come l'eligruber. Però diciamo ho cambiato un po' di inquadratura, spero che vi piaccia. Ciao a tutti, benvenuti, vedo già i soliti affezionati, quindi vi saluto veramente con tanto affetto perché comunque ogni giovedì sera ci troviamo qua e un po' ritrovarsi tra amici mi fa molto piacere. Allora, vado via spedito perché stasera ho parecchi argomenti da sottoporvi perché è una settimana particolare, ancora una volta è una settimana con parecchie novità che si susseguono, novità di mercato, per cui mi sembra anche giusto parlarne visto che comunque sono sempre le novità, le moto che ci fanno battere un po' il cuore, ci incuriosiscono e accendono anche le discussioni e poi perché in effetti sul mio canale dove ci sono le recensioni, ci sono le esperienze, però non c'è mai il tempo per fare un po' di approfondimento sulle news di mercato, su quello che succede. Quindi colgo l'occasione del laivetto per parlare un po' delle novità e spero che, anzi sono sicuro, visto la risposta che state dando sempre di entusiastica per questo laivetto e questo appuntamento in diretta, vorrei appunto piano piano ampliare gli argomenti, ampliare anche la formula, il format di questo laivetto e introdurre un po' di novità, un po' per volta. Ma andiamo intanto a salutare un po' di amici, vi vedo già belli attivi, non posso non salutare Andrea su tutti perché Andrea è colonna portante, ma direi che ci sono tutti, mi fa piacere vedere che c'è anche il mio amico Gigi. Ciao Luigi, è un po' che non ti vedevo da queste parti, ciao veramente a tutti, ciao a Davide, altra presenza fissa, per l'altro dalla Germania, ciao Davide, mi fa piacere vederti. Ovviamente ciao al buon Stefano che non manca mai nel nostro ritrovo ormai geriatrico, come l'abbiamo definito assieme, come dice lui, saluti sempre dalla pagina. Allora, inizio subito con il commento di Fabio perché voglio prendermi i complimenti, sono contento, voglio farti i complimenti per il video comparativo della Guzzi con Royal Enfield. Mi fa piacere vedere che, al di là dei complimenti iscritti, voglio dire che tanti stanno guardando questo video, questa videocomparativa e soprattutto ha generato tantissimi commenti, un sano dibattito perché ovviamente c'è chi preferisce Guzzi, chi preferisce Royal Enfield, devo dire la maggior parte mi sembra propenda per Guzzi, comunque c'è un buon dibattito sano, educato, non ci sono toni da tifoserie come si vedono spesso sui social e questo mi dà molta soddisfazione perché vuol dire che le persone che seguono questo canale sono persone come me che amano i toni un po' pacati, ecco. Quindi sono contento, ma andiamo subito a vedere quelli che sono gli argomenti del giorno. Inizio per prima cosa con alcune novità più personali che mi riguardano, infatti in questi giorni sono stato a Roma perché ho, intanto mettiamo la presentazione, ho dei piccoli disguidi tecnici, comunque. Sono stato a Roma, dicevo, sono stato a Roma per registrare alcune puntate della Moto Week. Che cosa si tratta? Allora, non è un programma che va in onda su questo canale, ma sono stato invitato da InMoto e Motosprint a partecipare a questa Moto Week che è un insieme di talk e di interviste dedicate ovviamente al mondo della moto, alle novità, ma anche a tutti quelli che sono i settori del mondo della moto. e quindi sono andato allo studio di InMoto e Motosprint per fare alcune interviste, in particolare ho partecipato al talk che riguardava le novità sul mondo della moto elettrica, quindi abbiamo fatto un po' una panoramica sul mondo della moto elettrica, è stato molto interessante. Tra gli ospiti c'erano Niccolò Canepa che ha corso negli ultimi due campionati con la moto E, ma c'era anche Cristian Abbiati che è un concessionario Harley Davidson, dopo insomma tutti lo conosciamo per i suoi trascorsi sportivi, ma ora è il concessionario Harley Davidson. Comunque abbiamo parlato di elettrico, poi in un altro talk che ho partecipato abbiamo parlato di viaggi, di turismo e ho avuto il piacere di intervistare Emerson Gattafoni, che probabilmente molti di voi conosceranno per il programma Dreams Road su Rai Uno. e Luca Bracali, altro grande regista di documentari di viaggio, quindi è stato molto interessante. E c'era anche Marcello Carucci che è un viaggiatore che probabilmente noto a chi è basica soprattutto su Facebook e sui social perché è un viaggiatore che ha l'attivo più di due milioni di chilometri e dall'84 che gira veramente per il mondo. Marcello Carucci è veramente un personaggio di tutt'altro genere rispetto ai due che ho presentato prima. Quindi sono stati dei momenti interessanti. Dal primo dicembre sarà online sul sito dedicato alla Moto Week, saranno online tutti questi video on demand e quindi mi potrete vedere anche lì. È una soddisfazione personale vedere che dopo anni di lavoro anche grazie a quello che pubblico e che realizzo su questo canale vengo riconosciuto e mi viene chiesto di partecipare a quella che reputo un po' la serie A del mondo dell'informazione motociclistica e quindi fa molto piacere poter dare il mio contributo che mi è possibile dare ancora una volta grazie comunque al vostro supporto, al vostro sostegno, al vostro seguito e anche ai vostri consigli che mi date tutti i giovedì sera. A parte questo, l'altra novità un po' più personale di cui vorrei parlare è il progetto in moto con l'Africa, lo sapete ogni tanto lo tiro fuori, ne parlo perché è una cosa importante a cui sono molto legato, molto affezionato. Come sapete lo scorso gennaio sono stato insieme agli amici, alla crew di in moto con l'Africa in Sierra Leone per documentare come le moto che siamo riusciti ad acquistare grazie alle donazioni ricevute da altri motociclisti, come queste moto appunto aiutino gli operatori sanitari nello svolgere il loro compito, ma non solo, come si riesca grazie al progetto in moto con l'Africa a sostenere il trasporto tramite moto in paesi difficili come Sierra Leone, appunto Sud Sudan, Uganda e proprio in questi giorni c'è stata girata questa foto che sto mostrando in cui si vede chiaramente una mamma che sta ritornando dall'ospedale con il suo bimbo appena nato sopra una moto che riporta il nostro adesivo. Ovviamente questo ci fa molto molto piacere perché significa semplicemente che il rider, il motociclista che la sta portando a casa, la sta riportando a casa, è un motociclista che viene sostanzialmente pagato dalla mamma in questione tramite un voucher e questo voucher glielo forniamo noi, o meglio glielo fornisce il QAM Medici con l'Africa, del quale in moto con l'Africa appunto è uno dei gruppi di sostegno. Quindi con questo voucher permettiamo alla mamma di tornare a casa e al rider di essere pagato per un servizio e quindi aiutiamo anche la comunità locale. Ecco perché è importante, lo dico adesso, visto che ci stiamo avvicinando comunque al periodo di Natale dove si pensa sempre anche ai regali, ecco magari pensiamo a un tipo di regale un po' diverso, particolare ma rivolto sempre a un motociclista, cerchiamo di regalare la possibilità di raggiungere l'ospedale o di tornare a casa proprio tramite la moto. La moto è l'unico mezzo che si può usare in queste zone, ma non voglio dilungarmi troppo perché ne ho già parlato altre volte, sul mio canale c'è il documentario realizzato proprio in Sierra Leone lo scorso gennaio e la novità di questi giorni, oltre alla bella foto che ci è arrivata, è che Michele, ideatore, Michele Orlando, ideatore e fondatore di Il Motto con l'Africa, è stato intervistato da 7 Gold e l'intervista andrà in onda per la prima volta a 7 in punto alle 6.45 sul canale 17 del digitale terrestre. Non preoccupatevi per l'orario perché ci saranno poi delle repliche e soprattutto sarà messo a disposizione in streaming, ma la cosa che mi dà anche soddisfazione, oltre ovviamente a vedere il mio amico Michele, è che assieme alla sua intervista sarà poi trasmesso il documentario che ho realizzato in Sierra Leone. Ecco, ho finito con i momenti di autoincensamento, mettiamo così, e comincerei a parlare delle novità. Prima do un occhio velocemente a quelli che sono i vostri commenti, che non ci sia qualcosa di urgente. Ringrazio intanto anche Gianfranco che sottolinea come i toni pacati siano il segreto del successo. Io me lo auguro perché spesso il successo sulle piattaforme media sorride più a chi urla e a chi cerca di mettere l'uno contro l'altro, piuttosto che a chi utilizza toni bacati. Ho detto bacati e non pacati. Allora, che si dice dell'elettrico? Com'è il futuro? Autonomie e colonnine? Eh, si dicono un po' di cose. Si dicono un po' di cose, vedrai su Motto Week, soprattutto grazie all'intervento di un autentico esperto che è l'amico Daniele Invernizzi, di Cars Now. Abbiamo cercato di capire come alcune tecnologie che stanno per apparire, stanno per fare la loro comparsa nel mondo dell'auto, poi arriveranno anche sulle due ruote e soprattutto come l'esperienza dell'utilizzo proprio dell'auto elettrica verrà riversata sull'utilizzo della moto elettrica. Comunque, più tardi parleremo anche di alcune novità elettriche un po' più potabili per tutti. Ma prima di quello vorrei parlare di un'altra novità che invece è una novità sportiva. Intanto magari la vedete già dietro le mie spalle, adesso la metto a schermo intero. Lo so, in genere sul mio canale non parlo molto di super sportive. Non è il mio argomento prediletto, ma questo non vuol dire che non mi piacciono, anzi mi piacciono molto. Semplicemente non è il mio genere di moto, non è la moto che utilizzo. Io preferisco le moto tranquille, i cancelli, come li chiama qualcuno, o comunque le moto più adatte ai viaggi e a godersi un ritmo slow. Detto questo, le super sportive sono bellissime, però ho bisogno dell'aiuto di qualcuno. Quindi vorrei parlare della Ninja, della nuova ZX10R che è stata presentata proprio nelle scorse ore. Per farlo ho chiamato un amico, un ospite, che vi introduco. È il mio amico Eddie, di Bikes for Eddie. Eccolo qua. Ciao, ciao. Ciao, ciao, benvenuto. Benvenuto, intanto grazie per aver risposto alla chiamata con pochissimo preavviso, perché veramente l'ho avvisato pochi minuti fa e ho detto, senti, tieniti libero che ti devo chiedere un paio di cose sulle sportive. Innanzitutto come stai, Eddie? Tutto bene? Allora, devo dirti, io sto molto bene, sono un po' emozionato perché, come dire, essere l'ospite d'onore all'interno di un tuo live mi mette un po' di soggezione. Punto numero uno. Punto numero due, mentre stavi facendo l'introduzione, ovviamente chi ci sta seguendo da casa non lo vedeva, io mi stavo sbellicando dalle risate perché capivo esattamente tutte le frecciatine che mi stavi mandando. Di conseguenza, sì, sto bene, via, mettiamola così. In diretta diciamo che sto bene. Frecciatine, quali frecciatine? Non capisco cosa intendo. I bombardoni, i cancelli, sono le moto che a me non piacciono, eccetera, eccetera, eccetera. Sei tu che mi dici che guido sempre i cancelli, che preferisco i cancelli, scusa? No, allora, tutto nasce dal fatto che il claim dei miei canali è la vita sotto i 280 all'ora non ha senso di essere vissuta, a meno che uno non si stia allenando o giocando con un Doberman. Però, voglio dire, non la prendo così alla lettera. Ti voglio bene lo stesso. Ah, non è che vivi sempre sopra i 280 all'ora? No, mi piacerebbe, nonostante quest'anno abbia fatto 17-18 giornate pista, non riesco a vivere sempre sopra i 280 all'ora. Però, come dire, mi piacerebbe. Sarebbe un buon traguardo per il 2021, oltre a quello di fare un trofeo con te. Sì, poi parliamo anche del trofeo, perché abbiamo entrambi voglia di fare un trofeo, ma con quello non si va ai 280, si va ai 180 al massimo. Vabbè, però va bene lo stesso, sarebbe un'ottima occasione per fare qualcosa insieme e divertirci. Allora, prima però spieghiamo un attimino chissà cosa fai per i pochi che non ti conoscessero, perché su Instagram tu vai parecchio forte, non solo in pista, anche su Instagram. Da poco sei sbarcato su YouTube, con un canale YouTube, Bikes4Ready, e ti occupi principalmente di pista, perché quella è la tua passione. Quindi moto in pista, non necessariamente bombardoni, ti ho visto alle prese anche con 650, anche con pit bike. però, diciamo, il tuo ambiente è la pista. Il mio ambiente è la pista, per una questione di scelta, nel senso non voglio fare il palladino della strada, non è la pista, eccetera, eccetera, però mi è capitato più volte di cadere sia per strada che in pista, e ho notato che la differenza sostanziale sono i tempi di soccorso. In pista, quando cadi, in 5 minuti sei nel centro medico, per strada magari, anche se abiti a 500 metri dall'ospedale, ci metti mezz'ora, un'ora. Quindi questo mi fa propendere. Sì, ho letto Fabio Zanin, grazie mille. E, come dire, siamo edulcorate in questo momento, perché c'erano momenti in passato in cui eravamo molto più zitelle e molto più acide. Come dire, la verità è che io e Eddie ci conosciamo da un po' di anni, a prescindere dalla nostra attività online, quindi è bello poi ritrovarsi online e condividere le passioni, anche se, in effetti, io e Eddie condividiamo veramente poco, non abbiamo quasi nessun gusto in comune, mi sento di dire. Ma forse per fortuna, mi sento di dire io. Quindi dai, mi sembri la persona adatta per commentare assieme a me la Cavasacona, la ZX, eccola qua. Bella. Allora, ZX. Allora, aspetta che facciamo intanto una cosa... Bella, che regia. Caspita. Allora, vedi, ho messo anche il titolo questa volta in tuo nome. Arriva il mincione, nuovo vincione, vincente in pista, ma già, vedi, ti pongo una domanda. Nelle piste è così vincente? Ti spiego quello che è un po' il mio interrogativo. Adesso, assieme a tutti gli altri, magari commentiamo anche quello che è l'estetica, eccetera. Però la mia prima domanda quando vedo la ZX10R è, cavolo, questa è la moto che sta vincendo da sei anni il mondiale superbike con Ray. Però, per strada, ok, magari non ha nessun ambiente, ne vediamo poche. Com'è la situazione in pista? Tu che frequenti sempre la pista, cosa mi dici? Ti dico che non se ne vedono così tanto, nel senso che, ovviamente, frequentando gli autodromi, i modelli più diffusi sono sicuramente Yamaha, quest'anno un po' di onda si sono viste, Aprilia, e Ducati. Kawasaki se ne vedono, se ne vedono però molto poche. Quelle poche che si vedono sono molto veloci, ma di fatto non sono dei modelli che sono poi così diffusi tra i comuni appassionati, o meglio, non sono dei modelli così diffusi tra gli appassionati in pista che magari fanno le giornate. All'interno dei trofei la questione è un po' diversa, perché Kawasaki ha un'elettronica che è forse un po' più facile da mettere a posto rispetto alle centraline IEC di R1 o rispetto alle centraline di Ducati di Aprilia che sono un pochettino più ostiche, però di fatto è un progetto vecchio. Io credo che questi due fattori in qualche modo stridano tra di loro, ma facciano sì che Kawasaki non sia così diffusa all'interno del mondo della pista degli amatori e anche poco rispetto a quello dei professionisti, perché se scorriamo i trofei nazionali, il national, possiamo guardare, ma anche il trofeo italiano amatori, le prime Kawasaki tutto sommato non sono mai nei primissimi posti che sono sempre dedicati di fatto a Yamaha, a Aprilia e a Ducati. Talvolta qualche Suzuki. Ma infatti un'altra cosa che mi sembrava strana era proprio questo dominio di Kawasaki nel mondiale che però non si riflette nei campionati minori. No, assolutamente. Una delle caratteristiche che a me ha fatto più riflettere del Kawasaki, perché poi sono andato a guardarmi la scheda tecnica, sono le misure caratteristiche del motore, quindi l'esaggio e corsa. Kawasaki sulla carta dovrebbe essere la moto da battere, anche nei trofei minori, perché ha 76x55 di alesaggio, mentre invece tutti gli altri milloni hanno pistoni da 80-81 mm addirittura, che vuol dire sì, valvole più grandi, regimi di rotazione più elevati, ma ha motori più impiccati. Sulla carta Kawasaki dovrebbe essere la moto che ai medi ti tira via prima. Questa nuova non ha fasatura variabile, è un motore aspirato tradizionale, screamer al 100%, con gli scoppi assolutamente regolari. Sì, la versione RR ha le camme in titania, qualche particolare alleggerito, però non ci sono elementi che facciano pensare ad una moto così facile da guidare, e non sembra che Kawasaki abbia voluto scegliere questa direzione. Questo io personalmente lo trovo molto strano, molto particolare. Mi sarei aspettato o una rivoluzione, quindi un motore come quello Honda che gira molto più alto, con un cilindro da 80, credono se non ricordo male, 78-80, oppure un motore Big Ben Engine, come quello di Yamaha. Adesso non voglio pensare ad un'architettura diversa, tipo un V4 come Aprilia e Ducati, però mantenere questa scelta ingegneristica sicuramente è una delle cose che mi colpisce di più insieme alla parte aerodinamica. Sono molto curioso di vederla in pista, sono sicuro che inizieranno a vedersi a partire da marzo, quando forse DPCM aggiornato permettendo potremmo ritornare in pista. Sono curioso di vederla e chissà magari anche di provarla. Quindi secondo te anche a livello di innovazione questo modello non differisce molto dal precedente? Guarda, no, non mi sembra che differisca molto dal precedente. mi sembra che Kawasaki stia adottando lo stesso approccio che ha adottato Aprilia quando ha presentato la RSV4. Infatti la RSV4 è sostanzialmente una moto che è molto simile a se stessa, seppur rinnovata ogni due anni, fin dal 2009. La presente edizione Kawasaki, lo ZX10R, è stato presentato nel 2011 sostanzialmente e viene rinnovato quest'anno, però non ci sono delle rivoluzioni sostanziali, ci sono tantissimi affinamenti. Il telaio di fatto è sempre lo stesso, il forcellone è un po' più lungo, 8 mm, viene incentrato un millimetro più avanti, questo per avere più trazione. Si è parlato poco dei controlli elettronici, su cui onestamente mi sarei aspettato decisamente più comunicazione, perché uno degli aspetti più carenti della Kawasaki ZX10R modello attuale è sicuramente l'elettronica, non ha una centralina inerziale pari a quella dell'R1 di Aprilia o di Ducati, ad esempio, ma neanche di Suzuki. Invece mi sembra che si sia fatto l'ennesimo affinamento, tutto sommato forse corretto, se devo pensare che questa debba essere la bandiera per poi vendere altri modelli, e quindi l'obiettivo di questa moto sia vincere il campionato del mondo con Johnny Ray. Se lui continua a vincere, è inutile forse stravolgere la moto, metterlo nelle condizioni di non riuscire per un anno a lottare con i primi e doversi riadattare alla moto. Ti riporto il commento di Giuseppe, che dice condivido la scelta che ha fatto Kawasaki, affidabilità prima di tutto. Sì, la condivido anch'io. Di fatto l'esperienza ci insegna abbastanza bene che l'evoluzione dei modelli, piuttosto che il loro stravolgimento totale, porta quasi sempre al successo assicurato. Proviamo a pensare a quello che è successo con Ducati, che dal V2 è passato al V4, sembrava che dovesse assolutamente rivoluzionare. Nelle prime sei gare del 2018, del 2019 scusate, Bautista sembrava assolutamente senza rivali. Quest'anno riding, domatore di tutto, poi è arrivata la Honda, che è passata da una moto che era molto trattabile, molto guidabile, ad una moto praticamente da MotoGP, fatta e finita. Di nuovo Bautista, le prime gare, ma poi alla fine l'affidabilità, la costanza, anche il talento di Johnny Ray, sicuramente, adesso è innegabile, è un cannibere. Poi altro personaggio, un po' come noi, molto pacato, molto sulle sue, tranquillo, lontano dai toni accesi. Sì, sì, a me piace un sacco Johnny Ray. Anche a me. E soprattutto, anche a livello di stile di guida, se proviamo a guardare come guida Johnny Ray, e di conseguenza, forse come si guida anche questa Kawasaki, vediamo che è più uno stile di guida fino anni 90, rispetto a quello che si vede oggi nella MotoGP con Marquez, ad esempio. Quindi, sì, condivido al 100% il commento di Giuseppe, che dice, sì, facciamo degli affinamenti, non stravolgiamo, perché poi alla fine quello che ci fa vincere è affinare, anziché stravolgere. E invece il commento di Matteo, che sottolinea come frontale, dimostrerebbe che il mercato si sta spostando verso i gusti asiatici? Beh, allora, probabilmente io ho i gusti asiatici, nel senso che a me il frontale piace molto. Sicuramente gli occhi a mandorla si vedono, come si vede la similitudine con il casco di Darth Fenner. È girato su tutti i social, un meme in cui si metteva il casco del protagonista di Star Wars accanto al musetto della nuova Kawasaki. A me personalmente piace, sicuramente il mercato asiatico è un mercato interessante. Io credo che una scelta stilistica così dirompente risponda, da una parte, alla necessità di andare incontro a un family feeling, che è quello dell'H2R. Dall'altra parte, voglia un pochettino tracciare la riconoscibilità del modello a tutti i costi. Provate a pensare, se da lontano, fino al 2020, voi aveste visto arrivare sul rettilineo del Mugello un Kawasaki ZX-10R o un BMW S1000RR o un R6 2017 da lontano a orecchie tappate e sarebbe forse stato difficile riconoscere. Ecco, con questo modello mi sembra che l'estetica del brand sia ampiamente riconoscibile. Inoltre... sono d'accordo, però non mi sarei ispirato tanto all'H2. Perché no? Va bene, dai, non dilunghiamoci troppo. Ok. Ma diciamo che a me non fa impazzire il cupolino, però ne riconosco l'originalità e devo dire che nella colorazione così tutta verde, total green, mi piace un po' di più. Riesco a capirlo meglio, ad assimilarlo meglio. Anzi, così, total green mi ricorda un po' le ninja di qualche anno fa, la prima ZX-10R del 2004, se non ricordo male. Quella a me piaceva molto, sia quella del 2004 che quella del 2006, anche se quella del 2006 aveva quegli scarichi sotto coda un po' gofi, però quella del 2004 mi piaceva molto. Sì, sì, bellissima moto, una moto che ho avuto tra l'altro, quella del 2004, inguidabile, secondo me, soprattutto se paragonata al Suzuki K5 dell'epoca, che invece aveva un'erogazione elettrica, il Kawasaki ZX-10 era un cavallo imbizzarrito, per me impossibile da guidare. C'è da dire che sia l'una che l'altra, quindi sia il Kawasaki che il Suzuki 2005-2004 ancora oggi si usano in pista e chi le usa si diverte anche parecchio. Allora, Gianrico, che è sempre molto puntuale nei commenti, dice, il Family Feeding, quello dell'H2, entrambi hanno l'espressione di un Decepticon che ha ricevuto una busta dell'Agenzia delle Entrate. È un bel paragone, è un bel paragone. Lo sposo, anche se devo dire che il Decepticon che ha ricevuto la busta dall'Agenzia delle Entrate a me non dispiace, esteticamente a me non dispiace affatto, anzi lo trovo... Allora, precisazione, non mi dispiace la versione stradale, ho visto quella dei test di Retz con Gianneria e lì ho storto un po' il naso, però poi come tutte le cose in questo momento stiamo guardando delle foto, delle presentazioni, dei video, secondo me questa moto va vista. La prima volta che vivi... Scusa, ma sulle supersportive io cito sempre Enzo Ferrari. Per me la supersportiva sarà bella quando vincerà. Ah, giusto, è vero, hai ragione. In realtà io penso, io ho un RSV4, come sai, ma magari chi ci segue non lo sa. La prima volta che ho visto l'RSV4 ho detto beh, che è sta roba, ammazza, che brutta, che cosa hanno fatto? Dice uno che ha comprato il 990 Adventure. Esatto. E appunto, poi però invece quando la vedi dal vivo così piccola, rastremata, hai detto mamma mia, questa è la moto, questa è veramente la moto totale. Nick, non ho letto l'ultimo commento che hai fatto passare, non ce ne hanno fatto Ah sì, scusa, era di Max Biker, dice ovviamente i gusti sono soggettivi ma a me piace, oggi come oggi sono un po' tutte moto con tecnologia dal tuo livello e ci sali su e sembra di averle guidate da sempre. Sì, però su un moto le fanno i 300 orari. Sì, su un moto da... Mentre invece vedo un altro commento a cui forse posso rispondere che è quello di Gianfranco. Questo credo. Esatto. Non si rischia di avere un campionato noioso, cosa dovrebbe fare Ducati secondo me, Eddie? Secondo me Ducati dovrebbe... Io immagino che tu stia parlando di campionato mondiale Superbike, non di trofei. Superbike, penso proprio di sì. Che cosa dovrebbe fare Ducati? Bella domanda. Io fossi al posto di Domenicali inizierei innanzitutto a gestire i piloti in modo diverso, se posso permettermi. Non credo che il problema della Ducati in questo momento sia un problema di natura prettamente tecnica perché il mezzo mi sembra molto competitivo, molto veloce, mi sembra più un problema interno di box. Non voglio dire di piloti perché per quanto testa calda Redding è indubbiamente un gran pilota. Un altro animo pacato che ho avuto la fortuna di conoscere e che è stato straordinariamente gentile non lo dimenticherò mai Chats Davis secondo me è un altro pilota straordinariamente efficace che però psicologicamente negli ultimi due anni non penso sia stato messo nella squadra nelle condizioni di potersi concentrare e lottare per il titolo. Quindi per me la chiave di volta per la squadra Ducati eccezionale scusa ho letto il commento di Fabio Zanino perso la concentrazione la chiave di volta della squadra Ducati è la gestione dei piloti. Sì anche i MotoGP ne combinano di tutti i colori vediamo dai adesso con un australiano come Miller che insomma in Ducati hanno grande tradizione con gli australiani no? Sì bevo con la tazza del Mugello volevo ore bravo vado a 280 all'ora anche quando bevo la ti bevi il Mugello dai comunque ti libero mi interessava sapere un po' la tua opinione visto che ci sei ne approfitto per una chiacchiera veloce anche sulla MotoGP dato che comunque a parte il tuo amore più recente per Aprilia tu almeno da quando ti conosco sei sempre stato appassionato di Suzuki quest'anno dopo 20 anni dal tuo idolo Schwanz no da 20 anni da Roberts 40 da Schwanz no a 93 Schwanz dai e beh più o meno 40 anni 27 27 che 40 anni ma non vince ogni 20 anni la Suzuki mi sembra di capire che vincesse ogni 20 anni no allora la Suzuki è una lunghissima tradizione la Suzuki vince quando gli altri decidono di perdere perché poi allora per quanto io ammiri il lavoro che ha fatto Davide Brivio che secondo me si è dimostrato il direttore sportivo il manager di team manager non so come vuoi definirlo più lungimirante degli ultimi 5 o 6 anni perché comunque da zero è riuscito a costruire una signora squadra non facendo emergere troppo le personalità dei piloti riuscendo comunque a gestire ad ammortizzare le tensioni tra la scuola giapponese che voleva un certo tipo di moto piloti come Vignales che invece ne volevano un'altra lui è sempre riuscito in qualche modo a mediare è riuscito a sviluppare una moto che due anni fa nessuno ci voleva salire te lo ricordi? quando nella nostra chat dicevamo ah la Suzuki non è Suzuki adesso la moto come dire più accreditata dell'otto c'è però da dire secondo me che nel 2000 nel 93 onestamente nonostante tu sappia io sono un grandissimo tifoso di Kevin Schwanz nel 93 Kevin Schwanz vinse perché Reine non arrivò alla fine del campionato nell'89 lo perse invece da solo perché l'osone era più forte nel 2000 Roberts vinse perché nessun altro era in grado di vincere quel campionato del mondo mancando Markets ed essendo così frastagliata la concorrenza e non essendo la Honda davvero presente la Suzuki ha raccolto e è riuscita ad essere concreta ecco il vantaggio della Suzuki è quello di essere stata molto concreta chi vedi bene per l'anno prossimo un nome così al volo chi vedo bene così per l'anno prossimo io vedo bene Morbidelli vedo bene Morbidelli Morbidelli mi piace un sacco perché sai perché Nick perché esattamente come Johnny Ray come te e come me è una persona dei toni pacati che costruisce lavora in silenzio è uno dei piloti che dà delle risposte ragionate che non dice le solite cose no no è un ragazzo in gamba mi piacerebbe poi mi piace come guida finalmente l'ho visto quest'anno tirar fuori la grinta soprattutto nel finale di stagione speriamo che l'inizio di stagione sia altrettanto forte l'ho visto tirare fuori la grinta cosa che invece nelle passate stagioni non mi sembrava mi sembrava un po' che lasciasse passare lasciasse emergere anche un po' troppo gli altri nel confronto diretto penso a Quartararo ma anche con altri duelli che ha avuto invece questa volta probabilmente perché si sentiva più sicuro più confidente sulla moto sta dando veramente spettacolo secondo me lui assieme a Miller e ci metto dentro Oliveira magari non in tutte le piste secondo me loro tre ci faranno divertire con un po' di sorpassi l'anno prossimo ti sento solo su Miller anche io penso che Oliveira possa dire la sua e secondo me anche rincia da tenere d'occhio ultima cosa poi davvero ti libero non ti voglio occupare tutta la trasmissione Morbidelli secondo me ha dimostrato grandissimo talento e grandissimo sangue freddo nella penultima gara quando ha saputo rispondere con una manovra alla Valentino perché quello è quello che ha fatto con due manovre alla Valentino a Miller che ha cercato di sorpassarlo infatti su Whatsapp mi hai scritto ha fatto due valentinate che noi ci divertiamo a commentare un po' in diretta tra di noi su Whatsapp ha fatto una valentinate ha fatto due valentinate ha visto giustamente l'altro ha lasciato passare l'ha incrociato e poi al momento giusto ha rallentato l'altro ha dovuto chiudere il gas e il primo è scappato mi ricordo un po' un amico pilota che a un certo punto quando ha terminato la carriera poi te lo presenterò questo fa parte degli aneddoti dello Z-Reddy si è comprato un BMW 1000 RT quello con i borsoni per non farsi superare dall'R1 lui scuoteva il manubrio in rettilineo per far spaventare quelli dietro giusto quell'attimo da come dire chiudi questo qui cade lui dava gas e intanto aveva preso 8-10 metri morbidelli e ha fatto la stessa bucciardata senti dai l'ultima domanda poi ti libero a proposito di Aprilia dice Fabio sono passati 5 tester con le 660 mi piacerebbe provarla che ne dici tu Eddy? si mi piacerebbe provarla uno dei tester è un caro amico Edoardo Alessandrelli che mi dice grandi cose di questa moto mi piacerebbe provarla mi piacerebbe provarla soprattutto ma qui in realtà Nick potrei quasi darti ragione nel senso che mi piacerebbe provarla soprattutto nella versione trofeo su una pista come Magione su una pista come Varano perché credo che quello sia il suo ambiente naturale ma mi piacerebbe anche provarla per strada per andarmi a fare un giretto tra le colline io non amo la strada ma secondo me peso potenza sono quelli giusti per potersi divertire nonostante io abbia una felpa con scritto RSV4 abbia un RSV4 un SXV un Touareg e sogni una F1 mi metto un po' le mani nei capelli che quasi non ho più pensando all'affidabilità di quel motore ma sì sai che è una delle forse l'unica sportiva che in questo momento mi fa tornare voglia di guidare una sportiva perché ha tutte le caratteristiche che bisogna avere per divertirsi su strada nel senso non è esasperata si è badato molto a ciclistica e leggerezza insomma molto interessante anche io spero di poterla provare insomma e di ti libero perché adesso vado avanti ovviamente se vuoi rimanere sei sempre gradito ospite per tutta la serata però credo che i prossimi argomenti siano un po' meno di tuo interesse perché comincio a parlare di moto che vanno sullo sport sullo sport roba elettrica non so se è la tua allora io ti seguo a prescindere ti seguo tutti i giovedì perché come sai adoro fare stalk e trollarti nei commenti anzi adesso aizzerò un pochettino le persone che ci hanno seguito per insultarti seguo con interesse la parte di offroad perché mi ci sto appassionando e non ti nego che mi piacerebbe provare e per il resto io sono qua se avete altre domande sono comunque in attesa va bene ti ringrazio ricordiamo tutti dove ti possiamo trovare per poi coprire anche te gli insulti esatto mi potete trovare su mi potete trovare su youtube perché ho appena aperto un canale che è piccolissimo ha 500 iscritti ma è molto cattivo ha un grande potenziale di aggressività come avrebbe detto the joker e il canale è bikes4ready come leggete qui sotto e mi potete trovare soprattutto su instagram che è il mio canale principale dove ho un canale un po' più grande sviluppato e cerco di raccontare tutti i giorni con un post qualcosa di nuovo e differente non troppo impegnato perché non sono bravo come nicola che peraltro rimane il mio benchmark in quanto a creazione di contenuti motociclistici voglio dirlo sei il solito ruffiano sono un account passiamo ad altro sennò qui si annoiano ti ringrazio ciao eddi ciao ciao allora torniamo a noi torniamo alle novità grazie ancora eddi per essere stato con noi e torniamo rimaniamo in casa Kawasaki perché come giustamente ho visto che anche Stefano sottolineava prima nei commenti Kawasaki non è che ha presentato solo la Ninja 1000 ci mancherebbe sta presentando anche altre novità anche se come altre case devo dire lo sta facendo in maniera molto cauta forse anche troppo cauta nel senso vediamo molto poco e soprattutto la novità che trovo più interessante a quanto pare è questa adesso mandiamo il video pardon non ho mandato il video chiedo scusa eccolo allora KLX KLX 300 è una dual sport vera e propria è stata riprogettata risistemata la KLX che era già conosciuta diciamo già presente e insomma sembra un prodottino molto molto interessante adesso andiamo a vedere quelli che sono un po' i dati il video ovviamente prosegue mostrandoci tra l'altro hanno utilizzato no anche particolare questa cosa di presentare la moto con un 3D e non con immagini reali certo permette una maggiore libertà a chi realizza il video però un po' un po' mi dispiace che non sia una foto vera quindi guardiamo la foto vera eccola qua KLX 300 subito quello che è il dato i dati importanti ovvero parliamo di una moto da 137 kg quindi abbastanza leggera 33 cavalli quindi andrebbe bene un po' per tutti soprattutto soprattutto per chi si avvicina per chi ha le limitazioni della patente e il costo perlomeno in America di 5600 dollari circa quindi stiamo parlando di più o meno 5.000 euro la brutta notizia è che a quanto pare non è dato a sapere mettiamola così riguardo il suo arrivo in Europa e in Italia a quanto pare questo genere di moto viene molto apprezzato nei paesi americani non solo negli Stati Uniti mentre in Europa Kawasaki preferisce non importarli perché i numeri sono troppo bassi ed è davvero un peccato io mi auguro ma è una cosa che ci diciamo praticamente sempre durante questi leivetti che chi si avvicina soprattutto i più giovani che si avvicinano a questo mondo il mondo delle moto abbiano la capacità di apprezzare il rapporto peso potenza abbiano la capacità di apprezzare moto leggere con le quali si può arrivare ovunque e non solo i bombardoni per ricollegarci agli argomenti di prima che per carità vanno benissimo vanno benissimo per girare in pista quando si ha una determinata esperienza per girare per scoprire il mondo per avventurarsi queste sono molto fantastiche e davvero mi dispiace pensare che non vengano importate a proposito di moto due sport molto intriganti anche Honda ha annunciato ha presentato le nuove edizioni la CRF L e CRF Rally CRF 300 quindi c'è un aumento di cubatura anche per per Honda e un aumento di cubatura dovuto ovviamente delle nuove di nuove norme antinquinamento euro 5 la notizia purtroppo ancora una volta che non possiamo dare è sul loro effettivo arrivo nel senso che tra le tante novità che Honda in questi giorni sta un po' snocciolando queste sono state presentate al momento per il mercato asiatico quindi non per il mercato europeo e questa è una brutta notizia io sono abbastanza convinto che Honda abbia la forza per per importarle anche in Europa perché la 250 soprattutto Rally ha già avuto un buon riscontro di mercato insomma non stiamo parlando di numeri eccezionali in Italia perché comunque stiamo parlando di una moto di piccole cilindrate e noi sappiamo quanto siamo schizzinosi sulle piccole cilindrate però un po' se ne sono viste in giro perlomeno un po' ne ho viste nelle varie moto cavalcate persino alla Gibraltar Race quindi un po' di interesse su questo modello c'è un po' di risposta credo che Honda la importerà almeno così spero è interessante anche la versione L che è la versione scarrenata mettiamola così la versione non rallistica la versione più in duro tradizionale e niente c'è da augurarsi che arrivino vorrei sapere un po' come la vedete intanto voi con questi rapporti peso-potenza nel caso della Rally ad esempio si è aumentata la cilindrata da 250 a 300 questo vorrà dire qualcosina in più qualche cavallino in più ma a occhio e croce i chili non saranno di certo diminuiti quindi forse il primo punto su cui si doveva lavorare sulla rally non era tanto il motore quanto il peso ma questa è una mia opinione ma andando avanti con Honda vorrei portare alla vostra attenzione quest'altra novità tutt'altro genere tutt'altro genere di strada proprio anziché il fuoristrada qua parliamo di strade strade dritte però ve la voglio attenzionare perché io sono rimasto un po' perplesso da questa scelta molto molto originale diciamo di Honda che propone una cruiser la Ribel però con motore praticamente dell'Africa Twin sappiamo che già c'è sul mercato la Ribel 500 che è il motore della CB500 e che è appunto un bicilindrico fronte marcia liquido ma mentre lo capisco in quella fascia la fascia delle piccole cruiser delle urban cruiser per per capirci lì lo capisco diventa una moto facile abbordabile sella bassa insomma amichevole per chi comincia magari per il gentil sesso per chi ha la gamba un po' corta qui sul 1100 con l'adozione del motore dell'Africa Twin per di più dotato di DCT non so una scelta un po' sicuramente originale ma che non non mi entusiasma non so come la vedete voi come entusiasma mi sembra un po' non capisco bene che tipo di a quale mercato si rivolga una moto di questo di questo genere anche perché dall'aspetto mi sembra da queste prime immagini un po' un po' cheap un po' poverella ecco non mi non mi dà l'idea di una moto di una moto gagliarda come insomma dovrebbe essere una cruiser perché se no cosa mi prendo a fare una cruiser sempre con il bicilindrico dell'Africa Twin che ormai sembra essere destinato a motorizzare a motorizzare mezza gamma Honda e sappiamo che Honda è maestra in questo nel riutilizzare gli stessi motori su su vari modelli sembra essere pronto un crossover finalmente diciamo una versione più sport touring che andrebbe un po' a colmare quel vuoto lasciato dal del CBR1000F degli ultimi 1000 con questa che dovrebbe chiamarsi CB1100X dove la X appunto ci fa capire che si tratta di un crossover sostanzialmente un Africa Twin in versione stradale l'estetica se rimane quella di questi bozzetti direi che è molto interessante molto valida a me piace sicuramente sarebbe una valida concorrente alle BMW F900 ma anche alle Tracer 900 di Yamaha i più critici osservano che un motore dell'Africa Twin è un motore che non ha una grandissima personalità un motore che funziona molto bene ma che non fa innamorare che non non entusiasma e quindi metterlo su una stradale potrebbe non essere una mossa appropriata credo che come tutte le Honda anche questa sarà una moto che ti permette di salire e di andare subito forte ovunque cioè di trovarti subito a tuo agio continuiamo però comunque a spingere con cilindrate grossi cilindrate importanti mentre da Honda da Honda mi aspetterei e credo che anche qualcun altro se lo stia aspettando l'ho detto più volte una baby Africa Twin quindi una Endurona che possa fare concorrenza all'Atene Re 700 invece non arriva allora prima di passare ad altro l'altro argomento voglio dare un'inchiata rapida ai commenti allora allora vedo che avete fatto amicizia con Eddie mi fa molto piacere credo che possa essere interessante se insomma Eddie avete visto è un ragazzo che si spiega molto bene molto preparato quindi se vi interessa il tema delle uscite in pista possiamo riaffrontare tornare a affrontarlo in altri live rinvitandolo e parlando ancora con lui sempre che voglia unirsi a noi ma credo di sì e allora Christian dice il progetto 1000CBX mi ricordo fin troppo la VFR 1200 allora Nime nel senso che la VFR 1200 al di là dell'architettura del motore a V quattro cilindri a V era proprio una sport touring nel senso letterale del termine era è una sport touring nel senso letterale del termine quindi bassa sportiva carrenatissima questa invece è più alta sempre ruota da 17 però un'impostazione di guida più eretta quindi una moto più alta che unisce un po' quelli che o meno dovrebbe unire quelli che sono i pregi dell'endurona con quelli della sport tourer allora tornando ai commenti intanto ecco Fabio sei già iscritto al canale di Eddie mi fa piacere vedo che funziona Eddie funziona mi devi pagare la pubblicità poi parliamo di numero di iscritti perché ragazzi qua anche grazie agli ultimi video stanno aumentando un sacco gli iscritti sul canale e quindi si avvicina il traguardo dei 20.000 e noi siamo ancora indietro con il briefing non abbiamo ancora deciso cosa devo fare quindi prima di chiudere la puntata dobbiamo parlare anche di quello anche se ormai siamo già a 50 minuti di diretta alla faccia dei tre quarti d'ora che mi ero imposto come tempo diciamo canonico per il live e ultimamente andiamo più verso l'ora un quarto comunque anche Giacomo sostiene che in una cruiser non deve mancare un bel motorone e penso che anch'io sia così Giafraco dice basta ste millone sono sufficienti delle 500 600 magari italiane a parte prigli ci sono novità sulle medicine in dratti italiane purtroppo non ci sono novità perché anche chi le sta facendo come Benelli sta cercando di alzare la cilindrata e quindi le prossime novità di Benelli saranno tutte con il motore 752 con il motore diciamo 800 e 7,5 e anch'io la penso come te dovrebbero esserci più più 500 e 600 giustamente come dice Jacopo 950 non è una media assolutamente no allora è interessante che l'asservazione di Marcello un tempo si inventavano le moto oggi si coprono segmenti di mercato giusto così però temo nell'effetto fotocopico una serie di prodotti che inseguono ma non innovano e questo succede già da anni ogni tanto si vede qualche novità i crossover alla fine sono un po' la novità degli ultimi anni che però non è così novità nel senso il TDM c'era 30 anni fa ed era assolutamente un crossover la Agilera Nordwest ha inventato quello che possiamo chiamare crossover anche se forse era più una super motard gigante ecco quelle max lancia il sasso sul DCT vi piace davvero il DCT comodo sicuramente ma il manuale tutta altra emozione e film va bene per chi arriva dallo scooter non sono non sono completamente d'accordo nel senso che questa è la prima sensazione questa è la prima riflessione che si fa sul DCT non appena lo si lo si prova magari o si capisce come funziona in realtà quando cominci a usarlo veramente e io l'ho l'ho visto su Africa Twin soprattutto cominci tu ad adattarti a lui e hai quasi l'impressione che lui stia adattando a te cioè che stia imparando da te a fare le cambiate in realtà sei più tu che ti adatti al suo stile ma è estremamente efficace ti invito ti invito a dare un'occhiata sul canale YouTube di Gibraltar Race perdon canale di MotoRade Experience che sono gli organizzatori di Gibraltar Race perché c'è un video che ho girato io dedicato proprio l'Africa Twin con DCT con protagonista Manuel che è l'organizzatore della Gibraltar Race nonché Lomino che fisicamente fa proprio i percorsi e traccia tutti i percorsi Manuel fa 20.000 30.000 chilometri l'anno con una buona parte in fuoristrada in giro per Europa per tracciare i percorsi che poi unisce per creare la Gibraltar Race e lui per fare questi percorsi negli ultimi tre anni ha sempre utilizzato Africa Twin con il DCT prima la 1000 e adesso la 1100 questo video che abbiamo realizzato assieme credo sia molto interessante per chi vuole approfondire il tema Africa Twin in generale ma in particolare il tema DCT perché lui dice un paio di cose interessanti su DCT quindi se ti va dacci un'occhiata è un videino molto bello perché lo gira tu e io tra l'altro quindi garanzia di qualità allora scorro un attimo velocemente scusate se non rispondo a tutti ma veramente facciamo facciamo notte intanto mi fa piacere vedere che sia unito anche il nostro amico Sabato che che è sempre mi stavo preoccupando Sabato che non c'eri stasera tu sei sempre presente allora andiamo andiamo pure avanti con le altre novità perché proprio oggi e adesso adesso cercherò di farmi prendere cercherò di prendere un po' di insulti scusate comincio intanto ad essere rallentato nella parlantina perché vi parlo di uno scooter non solo di uno scooter vi parlo di uno scooter elettrico quindi praticamente voglio farmi insultare per tutta la serata allora perché vi parlo di questo scuterello perché secondo me è una novità interessante l'ha presentato Kinko questa questa mattina proprio questa mattina l'ha svelato e è interessante perché perché ci fa capire una cosa che costruttore grande e potente come Kinko non non è che ha tralasciato la novità elettrica qualcuno qualcuno sosteneva che le grandi case stessero un po' tergiversando sull'elettrico in realtà stanno tutte lavorando e per una volta Kinko arriva prima decide di sfoderare diciamo prima delle giapponesi la sua la sua arma e secondo me ha fatto ha fatto bene intanto ha uno scuterino che ha un design interessante che si rivolge ovviamente ai più giovani ma la cosa che è ancora più interessante dal punto di vista tecnico perché ha un telaio in lega d'alluminio che è sostanzialmente molto simile a un telaio di una moto con ruote da 14 quindi ha un buon appoggio e potete vedere come in Kinko hanno pensato di concentrare le masse di abbassare il baricentro montando le batterie in quella posizione nell'immagine in alto invece vedete la trasmissione perché avrà una trasmissione automatica a due velocità quindi credo che sia uno scuterello molto interessante se io avessi 15-16 anni penso che mi farebbe una gran voglia anche perché ormai le moto 125 ce ne sono per carità sono 125 quattro tempi sono anche moto interessanti per carità però qui potrei avere una chicca una novità con una spinta interessante perché parlano di 0,50 orari in 3 secondi e una velocità massima di 110 km per uno scooter che dovrebbe essere omologato credo come 125 spero perché comunque è uno scooter a un motore da 9 9 kilowatt 9 kilowatt e mezzo quindi Kinko ha rotto gli indugi e questo è il primo veicolo di serie primo mezzo di serie elettrico di Kinko ma soprattutto questa trasmissione questo studio che c'è stato dietro mi fa pensare che Kinko stia per arrivare con qualcos'altro l'anno scorso ho fatto vedere un prototipo di una moto elettrica e possiamo pensare che sia in arrivo ma di scooter elettrico in scooter elettrico continuo a farmi odiare questa sera e vi parlo un secondo soltanto di questo Yon-Y Yon-Y MGS-E perché è la prova che è in corso anzi ormai è la prova che sto terminando domani è il mio ultimo giorno di prova con questo scooter elettrico quindi prossimamente chi vorrà chi è interessato anche alle cose un po' diverse dal solito vedrà la prova di questo Yon-Y ma calmi perché ho deciso di provare questo scooter se mi seguite da un po' e mi conoscete avete imparato a conoscermi sicuramente avrete capito che non amo questo tipo di mezzo anzi per me lo scooter è lo scooter quello con la pedana piatta piccolino comodo un po' come anche l'Aspol di cui ho parlato ultimamente però quelli sono i scooter quindi due ruote utilitari che servono per i piccoli spostamenti gli scooter personalmente li detesto perché non hanno tutta la praticità di uno scooter come può essere una Vespa ma hanno questa pedana in cui non c'è spazio per niente sono grossi ingombranti pesanti con le ruote per i più piccoli quindi giustamente mi starete chiedendo ma perché hai voluto provarlo perché è l'unico scooterone completamente elettrico ad eccezione del BMW ma il modello di BMW costa una fucilata 15.000 euro questo costa intorno ai 7.000 euro con la possibilità poi di accedere anche agli incentivi quindi un prezzo interessante ed è completamente elettrico superi 100 orari io ho raggiunto i 115 il costruttore mi diceva che arrivava a 130 ma sono arrivato a 115 116 oltre non so quanto lancio servisse perché già stavo tirando da un paio di chilometri però 115 ci arriva subere i 100 chilometri di autonomia insomma è interessante poi ve ne parlerò la scelta particolare la mostro in questo slide che questa è una foto che ho fatto appunto l'altro giorno mentre lo provavo la scelta particolare è di aver messo il motore nel mozzo ruota una cosa che ultimamente con i motori elettrici sta prendendo piede soprattutto con i prodotti asiatici prodotti cinesi e personalmente ho più di qualche riserva su questa scelta perché comunque va a contribuire a quelle che sono le masse non sospese ora io non sono un ingegnere meccanico ma insomma mi sembra che non si ha una grande idea poi a livello dinamico soprattutto perché stiamo parlando ripeto di uno scuterone che ha un passo molto lungo un interesse importante è pesante e a ruote piccole ma comunque vi parlerò poi con carma dello Yon-Wai spero che appreziate la varietà degli argomenti e non fatte del tifo da stadio ma lo so che non siete così e qualche volta a priate insomma anche a prodotti un po' diversi da quello che è il nostro pane ma appena finito con questo Yon-Wai state tranquilli perché in arrivo un'altra prova molto interessante finalmente finalmente posso dirvi che sto provando la V85 TT Moto Guzzi evidentemente ha apprezzato quello che è stato il risultato diciamo di views di commenti di interesse attorno al video della V7 e quindi ha deciso di affidarmi una V85 per alcuni giorni purtroppo in questo periodo non posso viaggiare più di tanto per i motivi che tutti sappiamo però cercherò comunque di accumulare un po' di esperienza su questa moto per potervi raccontare rendicontare su quelle che sono le sue caratteristiche già dai primi chilometri che ho fatto ieri per tornare a casa mi sono accorto di due o tre cose allora la prima sensazione è intanto di una posizione di guida molto molto comoda incredibilmente comoda la seconda è che ritrovi effettivamente la stabilità tipica delle motoguzzi e questo secondo me le motoguzzi sono state molto stabili che vanno proprio come sui binari di un treno però non proprio agili reattive ecco appena arrivano le cure invece questa si dimostra anche agile quindi subito ho pensato cavole è stabile come una guzzi e agile come un'aprilia e non è un caso che la ciclistica sia stata proprio sviluppata in aprilia quindi andremo poi andrò poi a raccontarvi tutto sulla motoguzzi v85 spero di poter fare un buon test nonostante il periodo torniamo un attimo in studio per vedere quelli che sono i commenti scusate ci metto un po' ho bisogno di un regista decisamente allora quelli sono quelli sono i commenti allora innanzitutto una moto da uomo penso che non fosse relativo allo scooter ti ringrazio allora Matteo dice sul motore non è mozzo quando cambi le gomme cambi anche il motore può essere no a parte di scherzi ho visto che il sistema di fissaggio della ruota è molto molto semplice in realtà il vantaggio ovviamente è che non hai organi di trasmissione e questo è molto molto interessante secondo me mi piace l'intervento di Jacopo che è ingegnere dice è davvero una massa non sospesa è una pessima idea e lo credo anch'io soprattutto cioè soprattutto lo è anche in termini di sicurezza perché ho notato ho notato una frenata particolare soprattutto al retrotreno ma di questo vi parlerò poi nel video allora 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 sulla v85 sì questo ti so già rispondere andrà purtroppo non è tubeless ma la camera d'aria il che è ovviamente una cavolata una grandissima cavolata però è così è così era una moto diversa dalla v7 sei troppo severi con la v7 è una bella moto a me piace la v7 grande moto motore un po' con il fiato corto un po' di allungo in più era perfetta cambio bello bello con la castagna tv bmw per preciso cardano top dice sabato che l'ha provata allora ok 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 va bene vedo ok vedo perché poi scusate ma sto cercando di risalire i vostri commenti ma vedo che parlate anche d'altro quindi ritorno alla nostra presentazione parlando di moto italiana mi viene spontaneo parlare un attimo di ducati che come ogni settimana ormai ci è abituato ha presentato ieri una novità ha presentato il diavel mi raccomando il diavel loro ci tengono molto il maschile in versione lamborghini un'edizione limitata da 32.000 euro ma che io trovo di un tamarro esagerato ma va bene ci sta lo spirito giusto tra parte il diavel è comunque la moto tamarra lamborghini che se ne voglia comunque fa macchine tamarre belle quello che volete non è che il diavel sia brutto non è bello brutto è proprio è che è tamarro dai non potete non essere d'accordo con me in questa versione è estremamente tamarro non ricordo ho già detto il prezzo 32.000 euro per avere questa edizione limitata ma la cosa che mi fa un po' così non voglio dire sorridere ma così curiosa ecco è che nelle stesse ore girano notizie su vari siti di informazione che riguardano la messa in vendita da parte del gruppo Volkswagen di Ducati e Lamborghini quindi del del polo emiliano non so non so che cosa voglia dire esattamente ma ma ci sta che il gruppo Volkswagen abbia investito per rimettere un po' in carreggiata questi questi marchi da un punto di vista possa venderlo guadagnandoci e soprattutto al perlomeno queste erano le parole le dichiarazioni che venivano un po' estrapolate dai dirigenti Volkswagen è che possano così concentrare le risorse sulla grande sfida del prossimo decennio che è ovviamente l'auto elettrica il mercato delle auto elettriche intanto vedo alcuni commenti che riguardano il diavel allora prezzo onesto dice Matteo fa cacà dice l'accademia del fantacalcio giustamente peggio della versus mille di cosa stiamo parlando peggio della versus mille sabato tu sei arrivato in ritardo quindi questa sera ti sei perso tutta la nostra disamina della ninja mille lì ti volevo sentire questa è brutta brutta dice cristian ok mi sembra di capire che il diavel non vi entusiasmi Gianfranco dice speriamo che tornino in Italia come proprietà ovviamente è ora di rispondere alle vostre domande siamo già verso l'ora un quarto ma avevo la mail della settimana la mail della settimana che leggo insieme a voi allora ciao motoretto ti faccio innanzitutto i complimenti per la puntualità dei tuoi interventi che seguo con piacere bla 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 29 anni ho preso la patente A non ho pedigree moto ciclistico vorrei cimentarmi però quindi cerco un consiglio sulla prima moto cerco un mezzo equilibrato per agilità stabilità e capienza destinazione prevalente è l'uso cittadino gite fuori porta strada estra urbana praticamente tutto con passeggero se capita mi piacerebbe poter farci anche da solo un giro a medio raggio con bagaglio contenuto in prospettiva poter farne un mezzo da pendolarismo ok quindi praticamente vuoi fare tutto con la moto perfetto mi sto orientando sui segmenti di sapore retro ma non disdegno le piccole crossover ok caro Antonio c'è un po' di confusione quanto alla potenza eviterei cilindrate elevate e biciclette a motore pensavo di assestarmi intorno alla soglia canonica di 35 kilowatt con facoltà di sforare per una moto comunque tranquilla finora ho avuto modo di provare soltanto la interceptor ma in 5 minuti non ho potuto approfondire soltanto da fermo mi hanno un po' scoraggiato il peso e alcune finiture ho chiesto poi di provare il caballero 500 ma mi è stato opposto un rifiuto che mi lascia perplesso vorrei che capire se lo scarico alto è troppo fastidioso infine aspetto di guardare da vicino le usquarna 401 di provarle se si potrà mi intrigano molto ma al momento le ordinano contate per gli acquirenti dalla rosa escluso per ora duke 390 le uncino 500 e cp 500x sul budget non saprei formulare una cifra limite ad ogni modo valuto di prenderla nuova ok Antonio la domanda è abbastanza complessa scusate se l'ho letta tutta però era proprio per farvi capire che ci sono vari punti Antonio innanzitutto credo che sia un po' confuso ma giustamente per via della per via un po' dell'inesperienza perché sono confusi quelli che hanno molto più esperienza di te figuriamoci chi non ha non ha ancora scelto una moto quindi sarebbe la prima moto ci sta ci sta avere della confusione ci sta avere della confusione e torniamo perdon ok allora eccoci torniamo così almeno avete sottocchio il testo allora le considerazioni che fa Antonio sono tutte esatte alla fine perché una moto per cominciare potrebbe benissimo essere un 400 un 400 500 insomma la soglia dei 35 kilowatt è corretta anche se non hai limiti di 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 potenza di patente io a questo punto vorrei sentire visto che vedo che è ancora in linea ne approfitto per richiamare Eddie Eddie se ci sei ti aggiungo eccoti allora Eddie che ne pensi guarda in realtà io sono stato molto colpito da una serie di commenti che ho visto passare che probabilmente sono stati fatti per caso uno di questo riguarda la Honda XADV che io ho avuto occasione di provare così per scherzo nel senso che volevo fare una prova differente dal solito e provare a fare una prova dell'XADV in circuito quindi ho ottenuto l'XADV per una settimana e mi è veramente piaciuta quindi non la sottovaluterei credo forse sia al di fuori della portata per un neopatentato altro commento che vedo passare e che potrebbe essere una scelta molto interessante è il KTM90 così come tutte le 300 anche il Kawasaki 300 anche io ovviamente guardo sempre di più il lato delle sportive quindi io sono un ciocciamanubri è difficile che vada in giro come Rifonda o con un Enduro però penso che un 300 pepato il giusto potrebbe permettere di acquisire la giusta familiarità con la giusta sicurezza togliendosi già degli sfizi che come dire rimanendo in sicurezza ecco sì sicuramente quello che mi fa che mi fa un po' riflettere sono le diciamo le intenzioni di uso del nostro amico Antonio perché mentre sull'uso cittadino sicuramente una moto come le Osguarna 400 o la Duke 390 sono moto che vanno benone anzi sono molto attive e vanno possono andare bene anche su un terreno misto ecco su un percorso ricco di curve sicuramente non sono magari le più adatte per fare delle gite fuori porta ecco che se vogliamo una moto che ci consente di fare delle gite anche in due e poter fare pendularismo forse è più azzeccato andare verso la CD500X che comunque è una moto molto comoda è una moto che ospita anche il passeggero non ha una potenza esagerata e ha un'erogazione molto morbida fluida insomma e poi come dicevamo prima mamma onda fa le moto sempre molto amichevoli molto facili sembra di conoscerle da sempre giustamente vedo tra i consigli qualcuno dice anche Versys 300 anche questa potrebbe essere una buona una buona soluzione dipende un po' dei gusti perché l'altro l'altro aspetto è il sapore retro che cerca Antonio quindi questo potrebbe complicarci un po' la vita perché se vediamo una moto perché alla fine provare a guardare in qualcosa degli anni 90 inizio anni 2000 potrebbe essere una soluzione prima non ricordo se con Fabio Zannin o con Cristian chiacchieravamo dei 400 4 cilindri 4 tempi che venivano prodotti per il mercato giapponese erano estreme però l'NC30 il CBR 400 il GSXR 400 sono moto che tutto sommato questi giorni si trovano ancora di nuovo sono moto molto sportive quindi forse non adatte per un utilizzo quotidiano però c'erano anche un KLA X500 ecco piuttosto sì un KLA 500 ne abbiamo parlato che settimana scorsa con un altro ragazzo che adesso perdona mi ricordo più il nome Federico forse cercava una prima moto e un KLA 500 potrebbe essere una soluzione però sia quella sia le moto che i nomini tu sono moto molto datate per cui magari in termini di manutenzione di affidabilità non sono il massimo se uno non ha molta esperienza o anche semplicemente voglia di metterci le mani può complicare la vita lui sottolinea come stia valutando di acquistare una nuova quindi secondo me se vuole andare verso il classico deve orientarsi verso Triumph Street Twin oppure Moto Guzzi V7 che è ancora più classica oppure ancora Royal Enfield Interceptor ma dice che non l'ha entusiasmato se invece decide di orientarsi più verso la parte pratica e utile diciamo quella del pendolarismo e quella del viaggio in coppia ecco che probabilmente il CB500X è la scelta più razionale allora vedo intanto cosa rispondono anche Filippo consiglia CB500X che è bella equilibrata Marcello consiglia il KTM da Venture 390 anche questa è una moto molto bella molto bella potrebbe essere una buona idea è una buona idea perché comunque ha la grinta del 390 del stesso motore del Duke però è più comoda puoi fare volendo anche un po' di off si riesce a viaggiare in due sicuramente la CB500 ha un po' più motore per viaggiare in due ma direi che anche la 390 va bene dice Gianfranco dipende anche dove vive perché tra poco gli Euro 3 a Milano non gireranno già tra l'altro appunto insomma Milano sta spingendo in questi giorni su nuove restrizioni che riguardano l'inquinamento in generale non nello specifico le moto però insomma credo che nei prossimi anni sia una bella sfida per la città che purtroppo come raccontavo anche sulle pagine di moto è una delle città assieme ad altre città e tutte nell'area della Nura Padana città che sono in cima alla classifica dell'inquinamento a livello europeo quindi abbiamo poco da scherzare vero che le moto non sono la principale fonte di inquinamento non sono la principale causa dell'inquinamento però tutti assieme contribuiamo quindi è giusto averne consapevolezza Mototurismo Italiano ci suggerisce ci facciamo dare tre KTM 390 e distruggiamo Castelletto per me va bene basta che parli tu con KTM e li convinci quando entro in pista il mio obiettivo è centrare il motoretto e buttarlo per terra per quello che io rifiuto sempre gentilmente i tuoi inviti in pista la V7 dice Daniele è bellissima però sono perplesso sulle dimensioni tu che l'hai provata per delle persone alte di statura come lo vedi allora l'alto di statura come dico anche nel video ovviamente l'alto è sempre relativo però per me alto vuol dire più alto di me quindi come Eddie quindi uno cosa sei Eddie? 1,85? sì 1,86 1,86 ecco quella secondo me è la dimensione dell'alto Eddie sulla V7 si troverà o anzi si troverà perché magari si troverà sulla V7 con le gambe molto piegate perché la distanza sella pedane è molto ridotta non è tanto un problema in avanti del ginocchio perché la moto è lunga e quindi non è che picchia sui cilindri con le ginocchia ma un problema proprio di inguine che sta molto piegato quindi se sei molto alto potresti non trovarla comoda sella rialzata io sulla RSV4 ho lo stesso identico problema e ho risolto il problema facendomi fare una sella su misura partendo dal codone una sella che è alta ben 7 cm quindi ho guadagnato 4 cm rispetto alla sella originale posso tenere le ginocchia un po' più distese e non mi vengono i crampi dopo 4 giri di pista è chiaro che è un investimento perché una sella su misura costa 70-80 euro però la fai una volta e hai risolto il problema sì sì anche questa è un'idea caro Eddie io ti risaluto ti ringrazio nuovamente per essere stato con noi anche in questo secondo intervento se il giovedì sei sempre in zona tu fatti vivo che ti tiro dentro con grandissimo piacere sai che se si parla di moto a prescindere dal fatto che siano sopra o sotto i 280 euro scusate io lo faccio sempre volentieri se poi si tratta di farlo con chi ti segue che siamo diventati io sono diventato amico con la tua fanbase quindi direi che Nick dalla settimana prossima tu sei completamente superfluo il tuo live e te lo conduco io sì esatto hai già dimostrato hai già dimostrato che lo conduci meglio di me quindi tranquillo ti lascio con il mio segno di Fabio che secondo me esatto è geniale è bellissimo è bellissimo faccio lo screenshot fermi fai un co-bordo perché questo va negli annali Nick voglio chiederti una cosa sì sono bravo sei bravo come una boccola boccola e su questo ti saluto grazie mille ciao a tutti ciao 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 intanto Antonio ci ringrazia grazie a te Antonio per aver scritto penso che dovrei cominciare a provare più moto diverse per capire cosa mi piace assolutamente sì e ricordati che come dico sempre la prima moto se non hai mai guidato è importante prendere la prima moto che ti capita a tiro alla minor spesa cioè se tra amici parenti c'è un ferro vecchio che sta arruggire in garage tu prendilo prendine cura e ti saprà ripagare con l'esperienza che ti serve non ti preoccupare di prendere subito al primo colpo la moto giusta la moto ideale la moto dei tuoi sogni perché ci sarà tempo per capire quali sono i tuoi sogni e capire qual è la moto giusta la prima moto è veramente la prima che ti capita a tiro l'importante è fare esperienza e in questo un ferro vecchio una moto di un po' di anni fa ti consente di avere meno remore di avere meno paura di farla cadere di rovinarla perché succederà l'appoggerai ti cadrà dal cavalletto in garage insomma succede sono cose che succedono sono successe a tutte e continuano a succedere anche a chi fa esperienza non ti preoccupare quindi fidati prendi una moto un po' vecchiotta facci qualche chilometro nel frattempo ti schierisci le idee gira per concessionari a provare dove è possibile le moto quando non è possibile provarle chiedilo tu se vuoi segnala come hai fatto adesso perché così ne parliamo e magari proviamo anche a sentire qualche ufficio marketing e capire perché non le fanno provare se c'è qualche problema e vai non aver paura provale con calma con prudenza con la testa insomma le cose che dico sempre allora lo dice anche Iaco prendila usata poi la prossima sarà più interessante la prima la distruggerai ed è d'accordo come mi fa mi fa piacere Federico un parere sull'RS 660 no ne parliamo la prossima volta ne abbiamo parlato un po' prima è una moto molto interessante più di quello non posso dire perché non l'ho non l'ho toccata non l'ho vista non l'ho guidata quindi più di dire che è una moto che ha tutte le carte in regola per essere divertente sulle strade di montagna e più veramente non saprei non saprei cosa dire ragazzi allora ragazzi siamo siamo veramente all'ora e mezza quindi direi che abbiamo fatto abbiamo fatto notte e vi saluto come sempre vi ringrazio per essere stati una buonissima compagnia anche questo giovedì sera vi ricordo appunto che dal primo dicembre sarà online sul sito di moto week quindi dovete andare sul in pratica sul sito di moto trovate tutte le informazioni sarà online questa serie di incontri appunto moto week alcuni dei quali mi vedono presente e quindi vi invito a vederli ma vi invito ovviamente a ripassare sul canale come sempre il martedì sera che esce il nuovo video anche se questa volta si tratterà di uno scuterone elettrico magari troverete lo stesso interessante almeno così mi auguro il video e il giovedì sera 21.30 ci ritroviamo qui per il live chissà di cosa parleremo la settimana prossima se avete argomenti a suggerire voi scrivete come sempre a info chiocceramotoretto.it grazie davvero a tutti buonanotte grazie in particolare al plan che ricordo consente di mantenere indipendente questo canale quindi mi farebbe davvero per me un grande onore sapere che prendi in considerazione l'idea di fare parte del clan ragazzi grazie mille mi raccomando anche se siamo tutti con le limitazioni che sappiamo gas ma responsabilmente buonanotte buonanotte ciao ciao